Ciao a tutti, oggi vedremo come realizzare un pretzel. Vi serve del fimo color caramello e dovete stendere un serpentello dopodiché lo unite in questo modo fate tipo un nodo e i due lembi che fuoriescono li intrecciamo così e poi pieghiamo tutto verso l'interno in questo modo qui aggiustiamo le imperfezioni ed ecco qui il nostro pretzel dopodiché prendete del fimo bianco trasparente stendete un serpentello e tagliate tanti piccoli pezzettini per fare il sale li prendete e li mettete sul pretzel nell'ordine che più preferite ecco qua e il nostro pretzel è terminato ci vediamo al prossimo video ciao